Musica Dopo il successo raccolto la scorsa estate in giro per la Puglia, villaggio azzurro del progetto mitico azioni di valorizzazione dei prodotti ittici per lo sviluppo dei nuovi mercati, l'informazione fa tappa sabato prossimo 26 settembre a Vieste dalle 10 alle 21 nell'area Marina Piccola. Un villaggio interattivo per turisti e cittadini, attività, divulgazione, informazione e distribuzione dei materiali, area dedicata ai bambini, shopping fotografico e due workshop con un biologo marino dell'Università di Bari, esperti nel settore e degustazioni guidate. Sempre sabato 26 a Cagnanovanaro dalle 10 alle 18 in Piazza Nicola d'Apolito sarà allestito l'Infopoint del progetto mitico con distribuzione di materiale informativo. Invece martedì 30 settembre a Manfredonia in programma la cinema, ten organizzata con l'Ordine dei Medici della provincia di Foggia presso un ristorante nel porto turistico di Manfredonia agli ore 20 e 30, al quale partecipa anche il Presidente dell'Ordine Salvatore Onorati. A conclusione delle attività finalizzate e finanziate dalla Comunità Europea nell'ambito della misura dello sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori saranno quindi individuati nuovi mercati e nuovi prodotti a base di pesce locale fresco e trasformato nella promossa l'immagine del pesce azzurro a livello nazionale ed internazionale e i promossi consumi locali del pesce azzurro con particolare attenzione ai giovani in età scolare e medici di base. Manfredonia focus su Arsenico, la salute e l'ambiente. Sabato prossimo alle ore 9 presso l'auditorium di Palazzo dei Celestini si svolgerà il congresso Focus su Arsenico, la salute e l'ambiente organizzato dall'Ordine dei Medici dell'ISDE provinciale. A distanza di 39 anni dall'esplosione della torre di raffreddamento nel sito chimico di Manfredonia l'evento congressuale vuol far riflettere non sull'industrializzazione selvaggia di cui è stato oggetto il territorio garganico ma dando da un punto di vista più medico sui rischi e sugli effetti in acuto e in cronico ai quali sono andati incontro l'ambiente e la popolazione. Nella nostra città è nato da prima dell'estate un'indagine epidemiologica che coinvolgerà l'intera popolazione è palese che il medico di fiducia o il medico specialista possono essere coinvolti da richieste e dichiarimenti del cittadino. Il lavoro terminerà nel 2016, nel quarantesimo anniversario dell'evento. E oggi, venerdì, inizia la festa dell'unità di Manfredonia dall'oggi 25 e domani 26 settembre a Manfredonia in Piazza Castello, nei pressi della Villa Comunale nel bialetto che conduce all'ingresso del castello Sveguangioino si trarà la festa dell'unità di battiti, stand, gastronomia, musica e sottoscrizioni a premi. Il tutto si concluderà sabato 26 settembre con il concerto della Tribute Band di Rino Ghettano e alle 23.30 le stazioni dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Con l'arrivo delle prime piogge autunnali sui Monti Dauni riemergono i problemi legati alle strade che collegano i vari centri dell'Appennino con Lucera e Foggia. Frane smottamenti di sesto idrogeologico alla base del pessimo stato di alcune importanti arterie soprattutto del versante nord dei Monti Dauni e ovviamente aumenta il malcontento Guerino De Luca, sindaco di Castelnuovo della Daunia. Stamattina per venire qui ho dovuto fare un rally rischiando diverse volte di uscire fuori strada. È un problema serio, un problema serio che stiamo affrontando da anni. Le strade sono provinciali, abbiamo negli anni passati interessato la regione di questo problema, si è resta disponibile, ha messo a disposizione dei soldi, sono state fatte legare l'anno scorso da parte della provincia ma i lavori purtroppo non ancora partono. È un handicap, è un handicap per le nostre aziende. Io a Castelnuovo ho la fortuna di avere un impianto, un centro termale, l'unico della provincia di Foggia ma quanto pare nonostante le nostre sollecitazioni quotidiane sia in regione che in provincia questa struttura di vitale importanza per tutto il territorio non viene presa assolutamente in considerazione. Chiedevamo una cosa sola, di sistemarci le strade visto che pullman che portano i turisti alle terme rompono ogni giorno, cioè forano gomme. La stessa cosa succede per chi viene volontariamente senza i pullman per noi è un grave entità. Ci stanno bloccando, non riusciamo più a andare avanti. E parliamo di sport, calcio in Serie D avvia il 30 settembre la Coppa Italia. Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento della Coppa Italia, la competizione riservata alle società che partecipano al cambiato di Serie D pugliese. Calcio d'inizio il 30 settembre agli ore 15. Per il primo turno il Manfredonia affronterà il San Severo. E sempre per quanto riguarda il Manfredonia, domenica la compagine Sipontina ospiterà al Miramare il Serpentara. Per la prima volta in assoluto queste due squadre si affronteranno. La partita si giocherà agli ore 17 qui al Miramare di Manfredonia. La partita si giocherà agli ore 15.